Ben trovati all'Expert per te, oggi andiamo a vedere su questa splendida Defender 110 di colore Pangea Green il nuovo sistema di infotainment che prevede di serie il Camera 360 View. Andiamo su! Eccoci a bordo di Defender, il nuovo sistema PV Pro, l'infotainment che alimenta le nuove Defender e tutta la gamma Jaguar Land Rover e andiamo a vedere all'interno. Allora, possiamo accedere direttamente dalla telecamera che abbiamo sul display principale e qua abbiamo praticamente una PlayStation 5, ovvero un sistema di telecamera 360 che ci proietta tutto ciò che succede e qua siamo all'interno del deposito di soluzione SPA, come possiamo vedere ci spostiamo, vediamo le macchine parcheggiate all'interno e questa era la vista su strada. Proseguendo nel fuoristrada invece abbiamo i due laterali e il frontale dopodiché la telecamera che ha fatto più scalpore in nuova EVOC, ovvero ciò che ci consente di vedere attraverso il nostro cofano Anche questo video si è concluso qui, l'Expert per te tornerà a breve e per questo vi chiediamo delle proposte o dei consigli sulle novità Jaguar Land Rover per i prossimi video Ciao e a presto!